La prima partita stagionale è stata una partita vera con un avversario di categoria superiore è andata bene, ma il risultato lascia il tempo che trova l'importante era mettere in pratica quello che si è provato in questi pochi giorni di allenamento Nella fase finale siete stati impeccabili a contenere il forcing della Castiglionese? Sì, siamo stati bravi, siamo stati anche un po' fortunati però nel complesso siamo contenti, siamo soddisfatti non ci esaltiamo e continuiamo a lavorare Anche perché visto che da poca iniziatà preparazione si poteva chiedere di più Sì, è appunto da giovedì che abbiamo iniziato, i quattro giorni abbiamo fatto doppia seduta in questi quattro giorni però stiamo lavorando intensamente e bene Grazie e buon lavoro Grazie a te